L'uomo del terzo millennio non ha raggiunto la felicità. La civiltà tecnologica ci ha fatto fare passi da gigante, ma non siamo certo più felici di quanto avremmo potuto esserlo mille anni fa. Dall'età della ragione cerchiamo di raggiungere il successo, il piacere, il potere, ma seppure riusciamo a sentirci appagati e contenti per pochi attimi durante la giornata, non siamo in grado di mantenere più a lungo questo senso di soddisfazione. Vogliamo di più. Vogliamo la pace e facciamo la guerra. Vogliamo la serenità e siamo rusi dallo stress. Vogliamo essere felici e ci sentiamo depressi e frustrati. Se la nostra vita è costellata di disgrazie, sventure, eventi dolorosi, diamo la responsabilità al destino avverso. Che parola comoda è il destino. Il destino è diventato il nostro capro espiatorio, un modo spiccio per affrontare il fallimento. È arrivato il momento di cambiare paradigma, di mutare linea di pensiero. Per modificare una situazione che non ci piace, dobbiamo prima però sapere chi siamo. Non siamo un'addizione di cose che pure ci appartengono. Il nostro corpo, i nostri pensieri, le nostre emozioni, tutte cose che sono nostre, ma non sono noi. E allora ti chiedi che posso fare? Un primo passo sarebbe quello di renderti conto che l'origine e il fondamento delle tue esperienze si trovano dentro di te, non fuori. Qualunque esperienza può trovare uno stimolo in una situazione esteriore, ma nasce dentro di noi. Dolore o piacere, gioia o tristezza, esaltazione o depressione accadono solo dentro di te. La follia umana consiste nel fatto che la gente cerca sempre di trarre gioia dall'esterno. Ma se è vero che puoi usare ciò che è fuori come stimolo o impulso, la vera gioia dovrai generarla da dentro. Che cosa succede se cogli un fiore? Vedi la tua mano prenderlo? Adesso dimmi, quest'immagine è dentro o fuori di te? Sai come avviene la dinamica? La luce cade sul fiore, si riflette, cade nella lente del tuo occhio e si proietta rovesciata sulla tua retina. È uno stimolo elettrico che il tuo cervello interpreta convenzionalmente come un fiore, riproponendolo diritto nella tua mente. Quindi in realtà stai vedendo il fiore che tieni in mano dentro di te. Guardati intorno, come vedi il mondo circostante? Ancora una volta dentro di te. Tutti gli eventi che ti sono capitati, belli o brutti che siano stati, li hai sempre sperimentati dentro di te. Luce e buio, positivo e negativo, piacere e dolore, tutto è avvenuto dentro di te. L'esperienza è tutta quanta dentro. Ogni esperienza umana è al 100% autoprodotta. Rifletti. Se il tuo pensiero e la tua emozione sono una tua creazione, puoi plasmarli a piacimento. In un video precedente, emozioni e salute, ti ho parlato appunto delle emozioni affermando che la componente primaria di qualunque emozione è una molecola che si trova sulla membrana delle cellule del corpo e del cervello che si chiama recettore degli oppiacei. Le ultime ricerche in materia portate avanti da Raphael Meshulam, un chimico israeliano, hanno portato alla scoperta di una molecola della beatitudine. Ciò vuol dire che il corpo umano è in grado di fabbricarsi da sé gli stupefacenti. Può fabbricarsi la sua beatitudine senza stimoli esterni e soprattutto senza controindicazioni, come dipendenza e assuefazione. Ciò significa che il nostro corpo è meravigliosamente autosufficiente. Di recente si sono succedute altre scoperte simili, ma questo particolare composto chimico è stato denominato Anandamide, dalla parola sanscrita Ananda, che vuol dire beatitudine. Di fatto, ogni sorta di benessere di cui facciamo esperienza, che si tratti di pace, serenità, gioia, è una qualche reazione chimica interna. Esiste una tecnica di ingegneria interiore, come la chiama Sadhguru, per il benessere interiore, capace di creare una base chimica per un'esistenza beata. Se sei consapevole, puoi attivare il tuo sistema in modo tale che il semplice fatto di respirare diventa un piacere enorme. Tutto quello che ci vuole è la disponibilità a dedicare un minimo d'attenzione al meccanismo interiore. Ecco quindi qual è il cambiamento sostanziale che deve avvenire. Non cercare una via d'uscita dall'infelicità. Non cercare una via d'uscita dalla sofferenza. La via è soltanto una ed è dentro di te.